In questo video vi faccio vedere questa erboristeria nel centro della Medina che vende spezie e oli essenziali. Appena entrati il negozio è super colorato e fornito di ogni spezia, ogni pianta, ogni profumo e essenza. I ragazzi sono super disponibili e parlano tante lingue, persino l'italiano come potete sentire. Qui è pieno di turisti che hanno fatto rifornimento, tutti sono curiosi di sentire i profumi e di provare cosmetici e essenziali per la cura della pelle, dei capelli o della faccia. Ho preso la cardamomo, ho pagato 2 euro e anche la badiana, anche questa io ho pagato 2 euro. Queste le uso per le ricette quando ritorno in Italia. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto e che vi abbia dato modo di saperne di più su quello che potete visitare a Marrakesh.